Tengo la linea Mario per la diretta, si va agli ordini dello start. Sir James precede Cucca dell'Alger e Blue Navi Force che vanno in posizione con Cucca davanti. Precede dunque Blue Navi Force all'esterno, King of Watson. Poi Major Factor, Sir James, Autis Di Breme e Aeterler. Prima curva, conduce Cucca dell'Alger e Andrea Fele su dunque che precede King of Watson. Allo steccato invece Blue Navi Force, Major Factor. Intanto Cucca dell'Alger è in buon vantaggio su dunque all'attacco della letta di fronte con Cucca dell'Alger. Dunque che precede King of Watson all'esterno, Major Factor, Blue Navi Force, Autis Di Breme, Sir James, Aeterler. Questa è di Cucca dell'Alger, dunque Major Factor. Poi King of Watson, Blue Navi Force, Autis Di Breme all'esterno, Aeterler. Poi Sir James e Dogana, stesso schema Cucca, dunque Major Factor, Autis Di Breme, Aeterler, King of Watson, Blue Navi Force, Sir James, Dogana. Quando si affronta la curva, Cucca dell'Alger prova a scappare da dunque e poi da Major Factor, Autis Di Breme e Aeterler. Queste le posizioni, Cucca più semplice nel modo di galoppare rispetto a dunque che prova a organizzarsi. Poi Major Factor, Autis Di Breme, Aeterler con la retta, con Cucca in vantaggio su dunque e Major Factor. Autis Di Breme e Aeterler con i due della FV che vanno in caccia di Cucca, dunque dall'azione e Major Factor invece in mezzo alla pista che ha in vantaggio. Major Factor e dunque davanti a Autis Di Breme che ci prova. Poi Sir James, dunque e Major Factor alle prese. Poi Autis Di Breme con dunque attaccato di dentro da Autis e di fuori da Major Factor. Dunque è in leggero vantaggio su Autis Di Breme che ci prova a prenderlo. Autis Di Breme scatta e batte dunque. Terzo Major Factor. 9, 5, 8 l'ordine arrivo. Probabilmente Autis Di Breme, Michael Harris batte dunque. Dovrebbe essere questo l'ordine arrivo. 9, 5, 3, 8. E questo è tutto. Grazie. 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 Premio. Grazie a tutti.